Sono le 20 e qualche minuto, dunque porta chiusa qui al seggio centrale alla sede del PD, esattamente al Circo L'Aurora, sta cominciando lo scrutinio dei voti delle primarie del centro-sinistra. Vedete gli operatori dei vari partiti che sono all'opera. Il seggio è il numero 1, Circo L'Aurora. Grazie. 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 Matteo Renzi Matteo Renzi Matteo Renzi Vedete la mano? Sì, sì Bezzani Matteo Renzi Bezzani Matteo Renzi Matteo Renzi Mentre continuano le operazioni di scrutinio qui all'asseggio del Circolo Aurora per le primarie del centro-sinistra c'è già un primo dato è quello dei votanti proprio in questo circolo che è di 773 persone Grazie mille Grazie mille